Una riflessione amara sul tradimento, si ride ma si riflette, coppia aperta quasi spalancata di Franca Rame e Dario Fo è stata riproposta grazie all'iniziativa legata all'8 marzo volute dall'assessore Giovanna Carlettini al Petrarca con una splendida Chiara Francini e con il suo altrettanto bravo partner Alessandro Federico che abbiamo avvicinato prima dello spettacolo. Com'è l'amore quando è coppia in questa pièce? Com'è? Ma ce n'è tanto, soprattutto è tanto amore, quindi tanto amore provoca anche tanto dolore però sempre con una grande ironia e una grande intelligenza io trovo che siano nella loro fragilità due persone che provano ad essere intelligenti, a volte ci riescono, a volte no. La donna parte appunto fragile e poi via via acquista consapevolezza di quello che è, di quello che vorrebbe quindi sì, c'è questa sorta di movimento contrario perché alla fine la grande forza della donna è proprio il fatto di aver acquisito consapevolezza di ciò che la fa felice, di ciò che vuole dall'altra parte invece il maschio si sente morire perché sente di aver perso un qualcosa che pensava fosse immutabile. Lei però si è dato molto da fare con il suo assessorato e ha fatto tante iniziative in questi ultimi anni. Sì, è vero, è vero e dall'inizio del mandato che io propongo iniziative di formazione, di informazione, di educazione, di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza ma soprattutto ai giovani perché saranno le donne e gli uomini di domani. Grazie.